La signora Alicia Stellata, invalida e senza lavoro per la sua scelta di non vaccinarsi, ora è sotto sfratto esecutivo. Lei e suo figlio, anche lui disoccupato, dovranno lasciare la casa in cui vivono da anni alla fine del mese. Più volte si è rivolta al comune di Cremona e ai servizi sociali che hanno però negato la possibilità per lei di accedere a una casa popolare. Le spese si moltiplicano e l'unico aiuto concreto ricevuto per mangiare e pagare le bollette è arrivato dal comitato Fortitudo. Io al 31 ottobre 2022 alle ore 16.30 io devo lasciare questo appartamento. Non ho avuto nessun aiuto io dal comune, dal servizio POIS, mi sono recata anche in via delle colonnette qui a Cremona l'ufficio alloggi e mi è stato risposto che gli appartamenti non ci sono. Qui c'è una legge che dice la 118-85, fatta nel 1985, l'ultima modifica è del 10 marzo 2022. Chi ha lo sfratto esecutivo si può recare in qualsiasi momento a chiedere aiuto. Io ho lo sfratto esecutivo, io vivo qui da 12 anni, in residente qui a Cremona da 12 anni, e quindi io chiedo un appartamento perché mi spetterebbe. Sono italiana, ho sempre pagato le tasse, ho sempre lavorato. C'è la legge che si riferisce alle persone che hanno l'invalidità civile, con la legge 104, 65 anni. Io ho 65 anni. Con lo sfratto esecutivo si può prorogare lo sfratto per 18 mesi. Io, il mio avvocato, mi ha risposto che bisogna vedere se il giudice lo accetta, ma a questo punto io faccio una domanda. Questa non è una proposta, questa è una legge. La signora Stellata lancia un nuovo appello al sindaco perché non la lasci in mezzo ad una strada. Signor sindaco, la prego, io sono in difficoltà. Non posso andare neanche a dormire in macchina perché non ho neanche la macchina.